A seconda di quando vedrai questo video, il 1 febbraio 2023 la cometa di Neandertal si troverà o si è trovata nel punto più vicino alla Terra, esattamente a 42 milioni di chilometri con la possibilità di essere vista dal 24 gennaio, sempre se ovviamente il cielo sarà o è stato buio e limpido. Ma se in fondo il fenomeno delle comete non è nuovo, quello che però è straordinario riguardante questa cometa è pensare che l'ultima volta che passò vicino alla Terra fu all'epoca dei Neandertal, e da quel momento ne sono cambiate di cose. La prossima volta che tornerà sarà dopo 50 mila anni, e chissà allora se l'uomo ci sarà ancora, se sarà riuscito a colonizzare anche altri pianeti e come fisicamente sarà. Sicuramente per il nostro modo di pensare, 50 mila anni sembrano davvero un'infinità. Se ti è piaciuta questa curiosità allora condividi il video, metti un mi piace ed iscriviti sul canale e il play della vita su YouTube. Grazie. Grazie.